Proseguo e arriviamo a uno degli argomenti che normalmente crea un po' di leggenda metropolitana, cioè diciamo volutamente ho lasciato la slide bianca per aspettare, per crearvi un po' di thriller, cioè come si acquisisce il diritto d'autore sulle proprie creazioni, cioè un autore che ha fatto una di queste dieci cose, quindi uno scrittore di romanzi, un fotografo, un musicista, uno sviluppatore di software, come fa a diventare titolare dei propri diritti? E qua partono appunto le grandi leggende metropolitane. Normalmente quando faccio i corsi a una platea di musicisti la prima risposta che mi viene fornita è iscrivendomi alla SIAE oppure depositando le mie opere alla SIAE. Non so, quando parlo a una platea invece di letterati, di autori di testi o giornalisti mi dicono finché non faccio il contratto d'edizione, finché non faccio un contratto, oppure mi devo mandare la raccomandata a casa con una data certa, allora fino a quel momento non ho il diritto d'autore. In realtà queste, cioè non è che siano leggende metropolitane, è che queste risposte rispondono ad un'altra domanda. Io ho chiesto precisamente come si acquisisce il diritto. Fate caso, no? Cioè la parola è importante nel diritto, nella scienza giuridica più che in altri mondi, cioè acquisire il diritto è diverso dal dimostrare la titolarità di un diritto. Quindi quelle risposte rispondono all'altra domanda, cioè come posso dimostrare la titolarità del mio diritto, ma come si acquisisce il diritto in realtà la risposta la troviamo nell'articolo 6, cioè senza fare nulla, che è una cosa che a volte disorienta, però. La semplice creazione dell'opera crea il diritto. Il titolo originario dell'acquisto del diritto d'autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale è particolare espressione del lavoro intellettuale. Quindi a far nascere il diritto è la creazione dell'opera, l'ho messo qua in rosso volutamente, e in realtà l'abbiamo già detto prima, se ci pensate, quando ho detto che il carattere creativo è l'elemento fondante del diritto d'autore, non ho forse detto la stessa cosa identica che sto dicendo qua, cioè il fatto che ci sia carattere creativo fa automaticamente generare il diritto, fa automaticamente classificare quell'opera come tutelata dalla legge. Quindi quell'opera, quel romanzo, quella fotografia, quel software, se denota quel minimo carattere creativo, quella originalità che la distingue da altre cose create prima o da qualcosa di così semplice che tutti avrebbero fatto in quel modo senza particolare sforzo intellettuale, allora automaticamente è considerata opera tutelata dal diritto d'autore. E quindi il suo autore ha tutti i diritti previsti dalla legge. Dopo ve li faccio vedere, ha una slide abbastanza d'impatto con tutti i diritti che la legge italiana prevede per gli autori. Però adesso rispondiamo all'altra domanda, giusto per chiudere il quadro. Come si dimostra la paternità delle opere? Che è un altro paio di maniche rispetto al acquisire il diritto, anche a livello logico. Io acquisisco il diritto e dopo, cioè prima creo l'opera. Pensate al musicista che, preso dall'ispirazione di una sera di solitudine, si trova chitarra e foglio di carta e mette giù due strofe, un ritornello e una linea melodica, no? E degli accordi. Quella è la canzone, il brano musicale. E quindi è dopo che è nato il brano musicale che uno pensa alla sua, come dire, al metterlo al sicuro dall'eventuale pretesa di terzi, di altri. Però intanto l'ha creata, quindi lui già da quel momento è diventato titolare dei diritti. Ergo, una volta che ha fatto il suo brano musicale, sì, può, cioè se ha la preoccupazione che qualcuno glielo possa, come dire, usurpare, cioè qualcuno possa spacciarlo per proprio senza rendergli, come dire, debitamente, tributo e credito, allora può, vedete, dimostrare un'anteriorità temporale. Cioè la legge non dà, vedete che qua non vi ho messo una norma, qua non c'è un articolo, della legge sul diritto d'autore. Qua c'è un principio logico, cioè chiunque riesca a dimostrare di essere in possesso di una copia di quell'opera prima di tutti gli altri, vince, cioè detto volgarmente, cioè in una eventuale disputa giudiziale o stragiudiziale sulla titolarità di un diritto d'autore, vince quello che ha la prova temporale più antica, più precedente delle altre, diciamo, anteriore, ok? E giustamente adesso uno mi chiede, eh vabbè, ma come faccio a essere, quali sono i modi per? I modi per sono quelli che, cioè non ce n'è uno eletto, cioè la legge appunto non dice devi fare questo, perché a seconda dei contesti del tipo di creazione ci sono diversi modi. Nel brano musicale abbiamo detto, sì, c'è una delle forme, era anche quella, adesso nel mondo precedente, predigitale, era quella di andare con il proprio cd alla SIAE o con lo spartito e depositarlo. Oppure, non so, pensate ecco, un esempio che faccio, abbastanza comprensibile a tutti, no? La tesi di laurea. Quando uno si laurea, cosa fa? Deve depositare una copia della tesi presso l'archivio dell'università, presso la segreteria studenti che ha un protocollo e mette, come dire, agli atti che lo studente Mario Rossi in data 20 ottobre del 2020 ha depositato la tesi dal titolo XY fatta di 128 pagine che tratta questo argomento. Quella tesi poi viene archiviata perché ha anche un valore legale, serve per eventuali ricorsi, per eventuali discussioni sulla validità del titolo di laurea e via dicendo, no? Però quello non è una prova di data certa, cioè questo studente che poi magari riesce a laurearsi bene e quindi quella tesi viene, come dire, particolarmente apprezzata e surge a pubblicazione, no? Succede a volte, io l'ho fatto, il mio primo manuale pubblicato, il mio primo saggio, era la mia tesi sostanzialmente, rimodellata, riadattata, ma era in buona parte la tesi utilizzata per la discussione. E il fatto che io abbia depositato la tesi mi dava una data certa, perché lì c'è il timbro, diciamo, c'è il visto di un funzionario pubblico che ha, tra i vari suoi poteri, anche quello di dare un'adattazione certa perché c'è un protocollo, no? E voi, essendo dipendenti di biblioteche pubbliche, sapete come funziona sta cosa. Cioè ci sarà presso gli uffici dei vari comuni, delle varie biblioteche, un funzionario che ha anche questo potere, chiamiamolo così, tra virgolette, cioè di ricevere atti, protocollarli e quindi dare una validità temporale, una prova di esistenza di quel documento. Ok, quindi, questo per dire che i modi per dare un'adattazione certa sono molti. Adesso che siamo passati nel mondo, intendevo, in quelli, diciamo, del vecchio mondo analogico, nel mondo digitale, adesso che ci siamo ormai entrati a pie pari, la cosa si semplifica ulteriormente, nel senso che adesso dare una data certa a un file è ancora più semplice, ad esempio posso mandarmi una PEC, autoinviarmi una PEC, oppure mando il mio manoscritto ad un editore, di cui magari non mi fido molto, temo che questo possa poi utilizzare il mio testo per altre sue pubblicazioni, e allora glielo mando via PEC. La PEC è una posta elettronica che fa prova, da un punto di vista legale, come una raccomandata con ricevuta di ritorno e quindi fa prova anche della data di invio e dell'eventuale ricezione. Ok? E quindi quella, caspita, è una data certa. Oppure possiamo usare la firma digitale. La firma digitale è quella che, appunto, essendo voi dipendenti pubblici conoscete, quella con la smart card o con il token che fa sì che ci sia una password, una one-time password, e che quindi sia quel documento, come dire, provenga unicamente da quel soggetto e in quel caso si può anche attribuire una datazione. Quando aprite il software, il programmino per firmare i documenti, c'è una funzione che vi dice marcatura temporale. Cioè, oltre alla firma, metto anche una data che è legalmente non manomessibile, non manomettibile, perché viene generata con un sistema di chiavi, di criptazione, per cui quei metadati possono essere attribuiti solo a quel documento, in quella data precisa, ok? Ci sono anche dei siti che lo fanno da remoto. Cioè, se io non sono attrezzato con PEC o firma digitale, posso registrarmi su uno di questi siti. In Italia, ad esempio, ce n'è uno che si chiama Patamoo, che funziona bene, oppure ce n'è un altro che si chiama Safe Creative. Ne sono nati diversi, praticamente sono dei siti che non fanno altro che mettere la loro firma digitale, la loro marcatura temporale e restituirvi il file. Niente di più, niente di meno. Cioè, inseriscono nel file dei metadati che sono univoci e non possono essere manomessi, e vi restituiscono il file, voi ve lo conservate, e quindi nel caso di una diatriba sulla titolarità dei diritti, voi tirate fuori questo file e dimostrate al giudice o alla controparte, o all'avvocato di controparte, che in realtà quello vi sta fregando, perché quel testo, quel brano musicale o quel romanzo l'avete fatto prima voi di altri. Basta, direi che su questa cosa non c'è molto di più da dire. è più una, appunto, una, come dire, a volte una paranoia, passatemi il termine. Cioè, io faccio l'autore anche tra le mie attività, ad esempio ho un blog, no, che è abbastanza aggiornato, cioè ogni settimana, ogni 4-5 giorni faccio un post. Non è che per ogni post mi faccio la firma digitale, mi autoinvio le cose, perché sennò diventerai matto. Faccio fede sul fatto che anche il pubblicare sul blog dà una data, è una data che magari non ha le caratteristiche di data certa, inteso come lo intendiamo noi italiani, no, con, insomma, il crisma che arriva da qualche ente pubblico o da un meccanismo di firma digitale solido. Però comunque c'è una data, cioè il fatto che ci sia un blog, che ci sia la data di Google o di YouTube, che dice che quel file esisteva già in quella data, è già qualcosa, ok? Quindi è comunque una prova di anteriorità. Poi possiamo discutere sulla forza di due prove, una contro l'altra. Però, ripeto, forse adesso stiamo, diciamo, andando un po' troppo nella questione giuridica, giudiziale, che credo che in buona parte delle situazioni in cui voi vi troverete non si pone, no? Cioè non penso che ci sia questa preoccupazione che qualcuno vi plagi, usiamo questo termine, vi plagi la locandina di un evento, ok? Ecco, altra questione che emerge spesso quando si parla di diritto autore è di chi sono i diritti, cioè, allora, sono dell'autore o sono della società, dell'ente presso cui l'autore lavora? Allora, noi siamo in un contesto che si chiama, in un ordinamento giuridico, che appunto si chiama di diritto d'autore, perché siamo figli del modello francese, dove è la figura dell'autore, cioè proprio la persona fisica, il creativo, che ha il primo, come dire, il primo germe del diritto, passatemi questa metafora, no? Cioè, visto che è l'atto creativo a creare il diritto, è quasi sempre la persona fisica. L'esempio che ho fatto prima del musicista che nella sua stanzina notturna tira fuori il brano, è chiaro che è lui. Poi ci sarà una casa discografica, un produttore discografico che sarà interessato ad acquisire questo diritto per poi commercializzarlo. Chiaramente, però, c'è un atto di cessione del diritto che va dall'autore verso la casa discografica, e quindi il diritto d'autore, anche perché appunto si chiama diritto d'autore, è dell'autore. Questa è la regola generale. Ci sono però tre eccezioni, che sono le ultime tre, diciamo, del nostro elenco di sette opere, che sono software, banche dati, opere di design. In questo caso, in questi tipi di opere, la legge dice che se l'autore, cioè se lo sviluppatore di software, o realizzatore di banche dati, di opere di design, lavora come dipendente di un'azienda o di un ente pubblico, allora automaticamente il diritto viene acquisito dall'ente, dal suo datore di lavoro, salvo patto contrario. Anche qua, sono tre tipi di creazioni che non credo che vi interessino così tanto, quindi mi fermo a questo livello.